Attentamente, prima dei due va un pochettino agitato che esce da frigo, subito dopo si apre la fialetta, si aspira, dopo di che si passa alla deruzione. La deruzione avviene piano piano, a gocce a gocce, non va buttata tutta una volta, ogni flacconcino ne devono uscire sei dosi, piano piano si agita un pochettino, ecco questa è la fase più delicata. E ci siamo. Dopodiché passiamo alla dose. Si agita ancora un pochettino. E si va alla dose. La dose deve essere di 0,3. Eccola qua, la seringa. La seringa da insulina. 0,3. Ed è una dose. Passavamo. Sempre 0,3. Passavamo. 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 Passavamo.